E come era lecita aspettarsi, le dimissioni del consigliere di maggioranza Francesca Esposito riaprono il dibattito politico. Nella città dell'Isola Dino si voterà nel 2017. A conti fatti un anno e mezzo, ma dopo l'addio della giovane amministratrice del governo Pratico, la campagna elettorale è già iniziata e c'è chi scommette su un voto anticipato. Perché? Oltre a Francesca Esposito, qualcun altro era pronto a seguire l'ex consigliere. Almeno questo è quello che trapela da più parti. Dal canto suo, il sindaco Antonio Pratico rimanda tutto a domani, mercoledì 14 ottobre, alle 9.30 si terrà il consiglio comunale. Ci sarà anche la dimissionaria Esposito. E le minoranze? Il gruppo Uniti Rilanciamo Praia per il momento preferisce non commentare. Vogliamo prima ascoltare le spiegazioni del sindaco, ha detto il capogruppo Pietro De Paola. Certamente le dimissioni di un consigliere sono sempre un atto forte, simbolo di uno strappo. Allo stesso modo, le ragioni espresse da Francesca Esposito fanno pensare tante cose. Sulla stessa linea, il consigliere di minoranza nonché segretario di SEL, Praia Francesco Marsiglia. La notizia delle dimissioni del consigliere Esposito non appaiono improvvise, ha detto. Già se ne parlava da tempo. Ciò dimostra che il gruppo di maggioranza non è solido come si vuole far passare e non condivide le scelte monocratiche del sindaco. Ha fatto bene Esposito ad aprire gli occhi. Sarebbe stato meglio per il paese se li avesse aperti prima. Ci auguriamo che altri suoi colleghi di maggioranza possano seguire questo esempio. Grazie a tutti.